Ciao a tutti ragazzi, qui Feraz In questo video vi mostrerò come fare battaglie tra CPU e CPU 1 contro 2, 1 contro 3, 2 contro 1, 2 contro 3 E così via, insomma delle battaglie come le chiamino scorrette Sì, che nome di merda Comunque, quello che dovete fare è andare prima di tutto su XV2 Mods Installer Ovvero l'installer per le mod Andare su Tool e fare Slot Editor Poi cosa dovete fare? Dovete cliccare sul più e fare aggiungere un entry vuota Ovvero con nessun dato Io ho messo MT Dovete cliccare ovviamente su OK E poi aggiungerà l'entry automaticamente Io già l'ho fatto quindi non c'è bisogno di rifarlo Infatti vedete che non c'è niente Proprio perché non ci sono file da nessuna parte Che riguardano quest'entry Dovete fare poi OK Vi aggiornerà il tutto Poi potete chiudere tranquillamente e passare a Xenoverse 2 Una volta passati a Xenoverse 2 Potete semplicemente appunto Una volta caricato il gioco e tutto il resto Magari tempi di caricamento permettendo Perché comunque Boh Perfetto Come potete vedere Andando su inizio la partita Vabbè scende il vostro cac e tutto il resto Dovete semplicemente andare appunto Nel menu di battaglia Ovvero Insomma il classico menu per fare le battaglie Vi faccio vedere un po' come funziona Diciamo il tutto Ovviamente questo non si può fare per le battaglie locali Non penso che sia possibile onestamente Perché comunque No Non è possibile onestamente Magari in futuro se troverò una soluzione Ve lo farò sapere Ma non ne sono sicuro che ci sia un fix appunto Quindi fate battaglia libera 3 contro 3 Vi consiglio di fare questa qua Perché comunque è più comoda Avete più scelta Allora Innanzitutto vi faccio vedere per fare battaglie 1 contro 3 È un semplice esempio Scegliamo Super Freezer Durato E poi Mettiamo le entry vuote Per tutti e due i personaggi Che dovrebbero essere alleati con voi Potrei scegliere pure un altro personaggio E fare un 2 contro 3 Qua potrei fare lo stesso Ovvero fare un 1 contro 1 Un 1 contro 2 O un 1 contro 3 Mettiamo tipo che voglio fare 1 contro 2 Dai perché se no nell'1 contro 3 Mi areranno malissimo Mi areranno pure qua Però dettaglio Quindi selezioniamo due personaggi E poi selezioniamo le entry vuota Se non compare a nessun personaggio State tranquilli È normale Ora dovete scegliere Semplicemente lo stage Quindi fate Che ne so Campo aperto Dai proviamo Non cambia niente Come vedete già Super Freezer Durato Ed io darei l'istruzione Cell Contro C'è EKF Ezzaminto Come vedete già La mod è stata applicata Tranquillamente Potete controllare Il vostro personaggio E tutto il resto E potete combattere Insomma contro Due personaggi È abbastanza difficile Perché comunque Avete contro due personaggi Che potrebbero essere Più o meno forti Quindi sono abbastanza Discutili Poi passando A di nuovo Alla selezione del personaggio Potete fare pure Sì più o contro sì più Due contro due Due contro uno Uno contro due O uno contro tre Che cose varie Non so perché Mi è tornato qua In una due contro due Onestamente Mi sembra strano Come cosa non mi è mai successo Però va bene Ok Perfetto Selezioniamo L'entry vuota E selezioniamo Goku su version 2 Contro Vabbè Contro Goku su version 2 E selezioniamo Un'altra entry vuota Quindi per fare Un uno contro uno Tra la CPU Puto in rovina Come potrei vedere Carico Come se fosse Una normalissima battaglia Come tutte le altre Insomma Ecco fatto ragazzi Io ragazzi Non Stendirei che premi i tasti Niente Non posso fare niente Cioè è la CPU Che combatte da sola Cioè raga Ma che cazzo di figata è Cioè più che altro Un'ottima scopetta Per chi comunque Per chi vuole fare Sere animate Per chi vuole fare Lo bevare Insomma diciamo A come fare Quindi diciamo che Ci sta Ci sta Quindi insomma ragazzi Per questo video è tutto Spero di vorre che Il tutorial vi sia stato utile Se avete domande da farmi Potete farmene sul mio discord Oppure qua nei commenti di youtube Mi raccomando Fate vedere questo video A più persone possibili Dato che Una volta arrivato A 500 iscritti A fare un contest Con una lista gratuita Per il vincitore Iscrivetevi al mio Patron se volete Supportarmi E insomma Trovate tutti i link In descrizione Un saluto da Ferraz Per questo video è tutto Bella